Ma in fondo in fondo, qual è la regola delle regole per poter iniziare a fare radio? Ci ritroviamo ancora una volta su questo canale, grazie per essere ancora qui, vi ringrazierò sempre perché più presenza c'è e più il canale cresce e più possiamo continuare ad andare avanti e produrre contenuti gratuiti che spero possano essere anche di vostro aiuto. Sono tanti i temi che tratto in questo canale, uno in particolare, quello più preponderante, quello della radio. Allora, sono arrivati un bel po' di messaggi che riguardano consigli su come e quando iniziare a fare radio. In un precedente video vi ho parlato di quando è necessario fare radio. Se ve lo siete perso vi metto la scheda qui così magari gli date un'occhiata. Prima di dirvi qual è la regola delle regole per iniziare a fare radio, oltre a tutte quelle che già vi ho detto nei precedenti video, vi ricordo come sostenere questo canale con un pollicione del quale vi ringrazierò sempre e poi l'iscrizione se vi interessano i contenuti che pubblico su questo video e il campanellone per attivare tutte le notifiche ed essere avvisati ogni volta che arriverà un nuovo video. Ma allora, allora, qual è la regola delle regole? Beh, ne ho dette tante nel corso del tempo, però diciamo che una svetta un po' su tutte, e cioè l'incoscienza. E certo, perché fateci un po' caso, no? Allora, questo è un lavoro dove si vende aria fritta fondamentalmente, no? Non c'è nulla di concreto, nulla di fisico. Faccio sempre questo esempio, no? Se un falegname fa un armadio, quell'armadio lo fa, tu lo paghi e ce l'hai lì, lo vedi. E' fisicamente presente, mentre la radio vola nell'etere, non solo nell'etere ormai, ma insomma è qualcosa che poi svanisce. Che cosa può fare una radio? Cosa può fare uno speaker mentre parla? Beh, insomma, dare informazioni, intrattenere in modo serio, in modo ludico, insomma, regalare un sorriso, una riflessione. Però niente di concreto, niente che si possa toccare. E quindi se andiamo a fare un, come dire, un elenco delle possibilità di riuscire a fare radio, ma soprattutto di tutti quanti gli ostacoli che avremo davanti, e ce la farò, non ce la farò, quella radio mi prenderà, non mi prenderà, insomma, se mettiamo tutto insieme, alla fine che cosa esce fuori? Meglio lasciar stare, no? Mentre se una sana incoscienza prende possesso di noi, ecco, in quel momento riusciremo sicuramente a fare meglio. Non so se avete fatto caso, molti degli artisti, faccio un parallelismo con Sanremo, no? Molti dei ragazzi che sono andati a Sanremo la prima volta, hanno detto, beh, per me è stato un divertimento, mi sono dato, ho dato tutto me stesso, ho cercato di divertirmi il più possibile, e spesso queste performance sono molto, molto, molto positive, riescono molto meglio. Tananai, per esempio, ha dichiarato che la prima volta che è andato a Sanremo ci è andato con uno spirito molto allegro. Infatti è arrivato ultimo, ma è stato quello che ha venduto di più, e che è stato passato di più in radio. Nel secondo Sanremo, l'ultimo che è stato fatto, ha detto che era molto preoccupato, tanto preoccupato perché era più cosciente, cioè l'incoscienza era un po' svanita, e quindi la responsabilità, tutte, insomma, tutte quelle preoccupazioni della seconda volta lo hanno un po' frenato, tant'è che è stato meno brillante. E allora, per iniziare a fare radio, bisogna essere, avere quel pizzico di incoscienza che ci farà fare quei passi che altrimenti con la concretezza non faremmo mai. Lasciatevi andare, lasciate che sia il vostro istinto a parlare, anche se non siete ancora pronti, ancora se non siete totalmente preparati, lasciate che l'incoscienza faccia il suo corso, perché questo è uno dei, come dire, degli elementi, non dico il più importante, ma è un po' sopra tutti gli altri. Poi arrivano le regole, poi arrivano i comportamenti, poi arriva lo studio, poi arriva il percorso formativo che uno deve fare, il percorso di pratica che deve fare, arriva tutto il resto, ma l'incoscienza è quello che ci farà entrare dentro una radio o, ancora prima, chiedere di poter entrare in una radio e iniziare a buttarsi. Buttarsi e l'incoscienza, credo che siano gli elementi dai quali partire. Poi arriva tutto il resto. Questo non significa banalizzare questo lavoro, perché ho detto più di una volta che questo lavoro è un lavoro, è un lavoro serio, dove bisogna impegnarsi, dove bisogna studiare, dove non bisogna mai smettere di studiare, perché non si impara mai abbastanza. si continua ad imparare ogni volta che si va in radio, ogni anno che passa, ogni decennio che passa, si impara sempre. Però l'incoscienza, credo che sia la cosa più importante. Spero di aver risposto a una serie di domande che mi arrivano, come sempre, sui miei social. E a proposito di social, voglio ricordarvi Instagram, che è qui. Ecco, seguitemi anche lì, perché lì magari qualche battuta più istantanea arriva e magari c'è qualche rimando anche ai video che pubblico su questo canale. Canale che vi esorto a sostenere con un bel pollicione, grazie come sempre, e poi l'iscrizione e il campanellone. Pollicione, iscrizione, campanellone. È per questo che lo chiamo così. Sono campanella, attivate tutte le notifiche, così vi arriva sto messaggino, vi dice, ma sai che Calvari sta facendo un altro video in diretta, registrato? Quello che va bene. Vi ringrazio per aver seguito questo ulteriore video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!